Il 12-13 agosto avremo la possibilità di assistere al culmine di quel fenomeno celeste che permette di osservare frequenti apparizioni delle cosiddette stelle cadenti che chiamiamo anche lacrime di San Lorenzo. Siamo abituati a tentare di esprimere un desiderio prima che scompaia la loro sorprendente scia. Purtroppo in tutto ciò non c'è niente di poetico e di sovrannaturale. Si tratta solo di un incontro che annualmente facciamo con qualcosa di più concreto. L'umanità in fondo viaggia nello spazio stando su di un'astronave, la Terra, che protegge i suoi abitanti per mezzo di una parete esterna trasparente, l'atmosfera. In questo viaggio annualmente il nostro veicolo spaziale ritorna ad attraversare una zona dello spazio ricca di piccole particelle che una cometa ha disperso durante il suo secolare movimento intorno al Sole. L'impatto con l'atmosfera e la veloce caduta delle particelle verso la Terra le arroventa e consuma originando così la luminosa scia che cattura il nostro sguardo sorprendendoci ogni volta con la sua fugace presenza. Di quale cometa si tratta? È la Swift Tatu, scoperta da questi due astronomi nel 1862, nel corso del suo passaggio in vicinanza della Terra. L'astronomo italiano Schiapparelli, quattro anni dopo, capì per primo che le stelle cadenti di agosto avevano la loro origine nell'attraversamento della scia di particelle rilasciate da quella cometa. Prepariamoci quindi a osservare questo fenomeno, ma attenzione! Il suo culmine si raggiungerà il 12-13 agosto e non la notte di San Lorenzo come vuole la tradizione. Dove dobbiamo guardare? Per chi fosse munito di uno smartphone, basterà scaricare l'applicazione Google Sky Map. In questo modo, rivolgendo il telefono verso la volta celeste, sarete facilitati nel riconoscimento della costellazione Perseo, al cui margine superiore si troverà il centro radiante dello sciame meteorico delle Perseidi. Per chi, invece, ama l'osservazione diretta del cielo, dovrà dapprima individuare la Cassiopea a forma di M, posta in direzione nord-nord-est, e successivamente volgere lo sguardo nella porzione di cielo sottostante. Dalle 21.30 alle 6.30 avremo la possibilità di cogliere numerose scie luminose, perché, soprattutto verso il mattino, la Terra si rivolgerà verso la zona radiante, muovendosi in quella direzione, e allora sarà come osservare la traiettoria delle gocce di pioggia attraverso il parabrizza di un'automobile in movimento. Quest'anno, in quei giorni, la Luna non disturberà la visione, perché sorgerà al mattino in fase di Luna Nuova. Quindi, chi ha una macchina fotografica, possibilmente con un obiettivo grandangolare, la fissi su un treppiedi e, puntandola a nord-est, faccia ripetuti tentativi di foto a lunga esposizione. Il risultato sarà bellissimo, specialmente se si eseguirà da questa collezione di lunghe esposizioni uno Star Trail, con le stelle disposte a formare archi circolari nel cielo e le stelle cadenti che lì attraversano in linea retta. Non voglio allarmarvi, ma si è calcolato che fra mille anni la cometa, che presenta un diametro di ben 21 chilometri, potrebbe cadere sulla Terra o sulla Luna. E alla prossima puntata!